Un fenomeno angusto è che si protrae da tempo purtroppo. A Taranto ci sono pescatori abusivi che con un attrezzo illegale, la sciabica che si contraddistingue per il sacco maia ristrettissimo, tanto da essere definito velo, rastrellano qualsiasi tipologia di prodotto ittico non permettendo la riproduzione del novellame. La guardia costiera, nell'ambito dei consueti controlli, ha sorpreso due natanti con a bordo sei persone intenti nella pesca illecita. L'operazione è stata condotta con l'impiego di un pattugliatore, due gommoni veloci e un'auto civetta in supporto. In totale 25 militari dislocati sul territorio per combattere il fenomeno. Al termine dell'attività sequestrate due reti di 80 e 150 metri ed elevate due sanzioni amministrative per un totale di 4.000 euro. L'obiettivo era la pesca di neonata di sarda meglio conosciuta come bianchetto.